Almeno il game di prima non è stato così devastante, quello non è il senso. Per ora, sembrerebbe quello che ci dà più vaglio. Vieni, 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 vieni. Tu sei? Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Ma l'eroe di Daniele mi sembra molto strong. Poi magari è una stronzata. A me sembra... Non è ancora finito. Fanno il mondo. Ma eccoci, come va là fuori? Facciamo di questo. E facciamo di questo, quindi. Paperottolo con provocazione e via. Abbiamo una board, come dire, interessante. No 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 che è un po' una modalità un po' l'altra prendiamoci lui giusto per averlo prendiamoci questo meno 2 gold al nostro amico sicuramente si perché avere Yogg-Saron prima a me piace anche se abbiamo una board che fa abbastanza ribrezzo a questo punto ci perdiamo anche 3 di vita per 1 un gold ma io tutto bene dai no 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 forse il game prima con Yogg-Saron guarda gli altri 2 no l'aranca è andata malissimo e per adesso stasera abbiamo fatto solo questo oggi pomeriggio un pelo di più ho delle reclute fresche fresche per te allora Yogg qui lo prendiamo e lo mettiamo facciamo di questo dammene uno buono direi che non è proprio quello che volevamo perché è al 2 quindi dovrò farla salire un attimo per avere un briciolo di senso almeno un pochino eh sì beh qua abbiamo vinto quindi ci piace quindi qua ci piace per ora dammi le 4 spell bello dammi spell potenti però eh cominci uno di oro ci piace questo è inutile questo è inutile se prendi il cagnolino siamo contenti se no no vabbè facciamo di questo questo lo mettiamo questo lo tripliamo demoni onesti scarto una magia per ottenere 4 di gold questo qua è devastante calcolando che qua in campo abbiamo anche quello lì guarda che scugliamo al contrario ma forno vabbè però tanto in realtà abbiamo questa di magia quindi ce lo facciamo andare relativamente bene siamo una build di bestie alquanto discutibili venderei comunque lui per prendere lui siamo una board di merda c'è quello che c'è da dire c'è da dire facciamo proprio precari però almeno lui mi dà voglio che non mi sa con me ebbè che value trade onesti onesti solo 5 danni dai non uno schifo completo eh vabbè questo qua noi lo dobbiamo prendere 100% ehm sempre meglio avrei qualche se il resto ci abbiamo solo feccia quindi vabbè io direi a sto punto di vendere questo lui è un 16-16 che fa schifo gli effetti di fine turno si attivano due volte ehm all'inizio 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 magnetismo ci abbiamo il mondo e lo schifo cioè qua abbiamo tante possibilità di prendere qualcosa che faccia schifo tante possibilità di prendere qualcosa che non faccia schifo attenzione stiamo facendo 10 build diverse porca la puttana mi piace il tuo modo di pensare non gli questo la mia è è indecifrabile porca puttana la mia è davvero è discutibile guarda ho triplato praticamente il suicida beh pareggiato abbiamo pareggiato almeno questo può essere già meno schifoso di quello di prima andiamo a fare questo eh lui sfortunatamente sarebbe fortissimo ma mi piace il tuo modo di pensare ciao 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 Qualcuno mi riconfonga Distruggete questo posto I rantoli di morte si aggiungono una volta in più Madonna che schifo Beh teniamolo cioè Non saprei troppo bene che cazzo farmi ma ok Qua io direi di fare così ma Perlomeno abbiamo lo spawn di Gold Lui ci busta almeno Andiamo sui robot più o meno No cazzo in realtà siamo andati storti Siamo andati estremamente storti Porca troia Beh questo è un ottimo value Se permetti Prendi quello buono Bravo Bravo Va bene lo accettiamo Abbiamo uno sputo di vita Però qua abbiamo tantissimo Gold Dammi qualcosa di buono Ancora roba strana Bellissimo lui però Ma anch'io avrei scelto quello Ehm servitore più comune mio Qual è Raffanculo Cavallino Mi piace il buon modo di pensare Questo Scarabeo noi ce lo vogliamo giocare Assolutamente sì Questo qua è fortissimo Questo è totalmente inutile Questo è fortissimo Ehm questo noi lo mettiamo Perché ci deve poter parare il culo Poi Lui lo terrei ancora un attimo Cioè se fosse possibile Non mi dispiacerebbe tenerlo Cavallino Facciamo di questo Che magari scudiamo Ah è comunque un robot Lui lo mettiamo davanti Lui glielo mettiamo Qua così A sto punto Tu sei morto Vabbè ma tranquillo Manca anche a me Io forse adesso non sono più messo così di merda Forse lì lo battiamo Sì dovremmo poterlo battere Anche con abbastanza tanta agilità Perfetto Perfetto dai Io sono ancora un attimo Un partita per poco Però Tu sei morto 100% No sei ancora vivo Bella lì Cazzo Quattro magie Bella lì Qualcosa di bello Qualcosa di bello 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 Va bene Questo Vabbè In realtà è molto buono Guarda ti dirò Io lo faccio Viag sarà un dopato Io lo voglio Rinviene una magia della locanda Anche questo lo voglio Questo Lui Allora Provocazione l'abbiamo un attimo a lui che ci dà magnetismo Lui glielo facciamo potenziare al volo Questo qua a noi non dico che piaccia Però nel senso non ci fa neanche gagare A lui Questo a noi Piace parecchio Io direi di fare anche di questo Cavallino Noi non lo frizziamo Tanto non ci interessa poi in realtà più di tanto Va bene Va bene Stiamo facendo forse schifo 90% di win Daglie E ci riprendiamo scudo di vino sul coso Va bene Non siamo messi male Signor Chris Ben arrivato Perfetto Abbiamo anche il super pasqualone che ci dà proprio la sorpresa Adesso ve lo diamo 100% Gira doppia ruota di yog Due premi di lunacapra Due premi di lunacapra Inutile Questo noi lo prendiamo Questo noi lo baffiamo Questo noi lo baffiamo Più 6 salute A lui glielo possiamo dare senza problemi Lui lo prendiamo perché è importante Lui lo giochiamo Lui lo baffiamo così è super pasqualone Più 2 attacco Poi ne raddoppia attacco E ci piace Rinviene un servitore E ci piace Lui è fondamentale Il nostro socio lì lo prendiamo sicuramente Gli andiamo a dare provocazione anche al nostro socio lì là in fondo Che gli prende un attimo di buff Il nostro robottino qua Noi lo prendiamo Ma non lo andiamo a giocare Lui ci dà 2 gold Lui ci dà 2 gold Ed è molto figo Però il problema è che Ad adesso È apparentemente anche il più stupido che abbiamo nella board Però Perché non ha niente C'è la vadone che ci dà doppio gold Però ne abbiamo comunque parecchio Abbiamo già questo Quindi potrebbe essere lui Il buttabile Beh lui poverino non aveva qualcun cazzo Almeno crepa 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 Ma porca troia Dai deve crepare Sì 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 Ok No cazzo ti hanno buttato fuori Altri premi Prende dorato in servitore nella locanda Sono due inutili Puttana Questo qua però è carino Questo qua è stracarino Io lo prendo Non mi serve ma è stracarino Mi sa che il 23-25 è giunto il momento che ci saluti Però bua Non è che sono tanti gold Cazzo È proprio giunto il momento che ci saluti Eh sì Buonanotte Sarei quasi tentato anche da vendere No io farei fare un altro rush allo Yogg È che non è che c'ha tutte ste Super baffate Non abbiamo così infinite Tanto per dare value a lui Cioè Tanto Trova No 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 Grossino No Di realtà dovremmo vincere abbastanza in sceltezza Qua gli ritorna tutto Madonna mia, quante maniche stanno uscendo, eh Ma va Non possiamo vincere adesso Penso Qua abbiamo fatto un voglio della Madonna E invece vinciamo Ok Però secondo me sono stati stra-closed Ma tanto, tanto Allora, Jovi, dammi qualcosa di buono, eh Questo è Molto bello Almeno ce lo siamo baffati Di un botto Lo baffiamo Il Chris non sarebbe mai d'accordo con questa play E prima mi ha fatto vincere, no Ok Finalmente Diamo il gelo a lui Questo a noi piace E gli diamo scudo divino Allora abbiamo una manina in più L'amico Yog Sono tante stats Quello sì Ancora un turno con Yog E poi lo facciamo volare Cosa ne pensi, Chris? Cosa faresti, te? Questo Yog Non tienilo butti Tengo E chi è che faccio volare? Il 6-8 No Forresti volare lui 100% win, dai Sì Sì Per essere forte Tipo Cosa per il genere Doppio Sono infinite stats Altro che Quello che dà lui E però a questo giro Posso anche Tra virgolette Cioè se lo triplo Non lo vendo più Non lo vendo più Cioè piuttosto vendo Vendo altro Ma Lui a questo punto Non si vende assolutamente più E porca troia Direi E porca puttana Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Eeeh Cavallo Io non voglio Minimamente Mettergli provocazione A lui Glielo mettiamo A lui Prendiamo Uno scarabeo Che magari ci aiuta un pelo Facciamo anche di questo Eeeh 3-6 così Io lo voglio però Com'era come play? Secondo me è buona Più che altro adesso Quanto lui Dovrebbe Darmi tutte le stats Che abbiamo perso Ok abbiamo perso 100% Nooo Vinciamo noi Ma che cazzo Dici Cioè perché Questi tre qua Sono infiniti Quindi No ma non è possibile Che vinciamo noi Allora Questo è un voglio Della madonna Mi sa che non vinciamo Perché non abbiamo Preso tipo niente Di così tipo Però A sto punto No Vinciamo noi Minchia Non mangiarmeli per favore Questo cosa che è? Prenditi una capra Mi inviene un servitore di livello 6 Rinviene un nuovo potere eroe Vediamo eh Vediamo eh Devo con servitore di livello più basso Farei questo Mi viene un servitore alzai inutile Io non voglio dare taunt a loro due Quindi vai qua Banana non gliela voglio dare a nessuno Lo squadabettino Ce lo andiamo a giocare Attiva il grido di battaglia Di un tuo servitore Io non ne ho Al massimo c'è i rantoli di morte Non saprei minimamente cosa togliere Fanculo Il servitore di battaglia malissimo, invece no ragazzi, riusciamo ancora a portarcela a casa, però adesso dobbiamo per forza di cose riuscire a, allora lui deve avere sicuro, bello questo, siamo contro il cadavere, altri premi di luna capra, ma tante non mi ci stanno nella mano, inutile, inutile proprio, allora, tu a te, e ci siamo, a questo punto andrei quasi quasi a vendere lui, che comunque ne abbiamo dentro un altro, lui è un conto, anche a me non piaceva, eccoti una moneta d'oro per il disco, questo è bello, rinviene un servitore al 6, questo è doveroso, no, cazzo, rinviene un servitore di livello 6, inutile, anche io avrei scelto quello, spero che non aver fatto il turno a velocità, pippa, no, è easy win, solo perché eravamo contro il morto, dopo io a sto punto giocherei quasi il cavallo, così siamo mega tranquilli, ok, direi quasi cavallo, però adesso vediamo, spero, madonna, non me lo mangiare per favore, bello, no, cazzo, venga, ma sei storto come lo schifo, madonna, ce n'erano due che dovevi prendere di OP, vai su questo, vai su questo, fornisce uno di oro, più una provocazione se la possiede glielo toglie, tanto poi gliela ridiamo e gliela possiamo già ridare con questo, quindi ci piace, tu sei inutile e a sto punto ti tolgo e andiamo a cercare la tripla, ma niente, questo, così almeno ce l'ha anche l'altro e ci serve, gira, giro, giro, tondo, giro, giro, no, ne abbiamo già di golle, figa se ne abbiamo di golle, goldrick, 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 anche io avrei scelto quello, chi ha comprato quello lì, che sono un coglione, ne vale la pena prendere lui adesso, penso che si, vediamo se riusciamo a togliergli qualche scudo di dinallo, è gigante, non vinceremo mai, è invece 50%, ragazzi. non saprei quanto possiamo essere felici qua, deve tradarci stradi culo però, eh, appunto. Dai, figa, non ce n'è, o ce n'è, no, 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 fanculo, era troppo più grosso. All'acchi, però a seconda posizione.